Del grande Torino si sa tutto, le vittorie e soprattutto poi si ricorda dopo la tragedia di Superga, invece in questo nuovo documentario si parla degli ultimi giorni, quindi forse un periodo un pochino più in ombra rispetto a quello che conosciamo tutti. Di fatti sono molto curioso, intanto è bello essere qui in una settimana che è stata complicata, fammi dire che è stata anche infangata da una cosa molto brutta e molto spiacevole, quindi ha maggior ragione. Diciamo che cos'è lo striscione? Lo striscione dal quale con un po' di ritardo la società della Juventus ha preso anche le distanze, con un po' di ritardo lo sottolineo, e quindi è bello essere qua subito a ripartire insieme da tifosi del Toro, rionorando, se ce ne fosse ancora bisogno, naturalmente non la memoria del grande Torino, come dicevi tu, del dopo la tragedia, ma dell'ultima partita, l'ultima gara che il Torino giocò. Oltretutto una squadra che in quel momento rappresentava l'Italia nel mondo, perché era proprio quello che rappresentava il grande Torino, perché si arrivava dalla Seconda Guerra Mondiale, si arrivava da un periodo difficile, si arrivava da un periodo dove bisognava risorgere e questa squadra con i suoi successi era proprio il simbolo della resurrezione, in un certo senso. Queste parole che sono emozionanti ancora oggi le ho sentite tante volte dalla mia nonna, dal mio padre, che hanno vissuto il bello, la tragedia di quel momento storico e naturalmente questa parte rinascimentale dopo la guerra. Di sicuro il Toro di quegli anni non era solo una squadra, era un simbolo, era il simbolo di un momento della storia del nostro paese che riconquistava le cose perse e le cose distrutte durante la guerra. Era davvero metaforicamente qualcosa di più importante di una squadra di calcio. Forse ancora un po' come oggi, noi siamo tifosi di calcio, ma soprattutto tifiamo il Toro, che è una cosa un po' diversa, e probabilmente questa è ancora un'eredità di quel periodo storico di cui occorre andare orgogliosi. Il Toro non era l'unico, il Grande Torino non era l'unico rappresentante del mondo dello sport che incarnava questi valori, ma sicuramente in quel periodo quella squadra era sicuramente qualcosa in più di una squadra di calcio. Ecco, da sportivo, che cosa c'è oggi del Grande Torino? Che cosa si può trasportare nel mondo dello sport oggi? Beh, sicuramente c'è qualcosa in più della memoria, nel senso che la memoria, ahimè, è una cosa importantissima che va salvaguardata, però occorre riuscire a tramandare quei valori attraverso la memoria. Io credo che il valore di quella squadra al di fuori del campo, quindi non misurabile in gol fatti o in campionati vinti, ma il valore che quella squadra ha rappresentato per quella gente, per la gente che andava al Filadelfia, per quel momento storico della nostra città e del nostro paese, è un valore di cui lo sport deve riappropriarsi. Quindi credo che la memoria del Grande Torino rappresenti la necessità anche degli sportivi di oggi, soprattutto quelli bravi, soprattutto quelli che vincono, soprattutto quelli che entusiasmano e che fanno sognare la gente, a riconquistarsi il loro diritto di essere esemplari da questo punto di vista, di rappresentare qualche cosa anche che va oltre il loro specifico gesto tecnico sportivo. Tu hai nominato il Filadelfia, che proprio era il simbolo di quella squadra, era la casa del toro e che non c'è più, che forse verrà ricostruito, ma siamo sempre con la parola forse e 15 anni e più che si dice forse. E questa è la nostra Champions League, con la differenza che la Champions League è quella che conta di meno, quella che assegna una coppa, è un obiettivo che a noi è precluso come squadra in questo momento per ragioni che sono evidenti. Invece questa Champions League, la vittoria di questa Champions League rappresentata dalla ricostruzione di Filadelfia, è un traguardo raggiungibile. Come dicevi tu, siamo nella fase del forse, serve la volontà di farlo. Di solito in queste occasioni serve anche darsi una data, perché se uno ha una data noi italiani siamo molto bravi a rinviare, ma quando c'è una data poi a rimontare alla fine per riuscire a centrare l'obiettivo. Quindi secondo me noi dobbiamo porci questo obiettivo che è raggiungibile, che è fattibile, che restituirebbe naturalmente tutti quei valori di cui parlavamo e che ricordavi tu, che restituirebbe alla città una parte della città, un quartiere a connotazione naturalmente fortemente granata nel cuore della città, tutti i valori in cui la nostra squadra si identifica. Siamo in quella fase in cui bisogna costruire la squadra per vincere questa Champions League. La differenza rispetto a quell'altra, che conta di meno per noi, è che possiamo farlo, è che possiamo vincerla questa partita. Grazie